Ebbene sì, ho comprato la moto. Che moto ho scelto? Perché l'ho presa? Cosa me ne faccio? Adesso vi spiego tutto. Da quando sono piccolo, una delle mie passioni, soprattutto quando ero piccolo, era collezionare, non so se vi ricordate, quei giornalini che si chiamano In Sella, dovrebbero esserci ancora. Una volta li collezionavo tutti e mi guardavo tutte le moto, mi guardavo le marche, tutti i vari modelli e mi piaceva tantissimo. Non ero appassionato di motori, però l'idea della moto mi affascinava, mi piaceva proprio quell'idea di libertà. Tant'è che a 14 anni, appena ho potuto, ho preso subito il patentino e il motorino è stata una cosa che fin da subito ho iniziato ad utilizzare. Quella sensazione, mi ricordo, appena uscito di casa, in cui sono uscito e per la prima volta nella tua vita sei libero, perché fino ai 14 anni, diciamo che tendenzialmente, a parte la bici e cose varie, i genitori di solito ti portano in giro, non sei proprio libero, vai sempre un po' dove vieni accompagnato. E invece la prima volta, mi ricordo, sono uscito dal cancello, ho accelerato, sono uscito dalla mia via, non seguito da nessuno, perché ovviamente durante la patente, comunque eccetera, tutto quel periodo lì sei seguito da qualcuno, per la prima volta da solo, una sensazione di libertà pazzesca. Posso andare veramente dove voglio. E quindi questa cosa mi è rimasta. Tant'è che a 16 anni, poi, quando ho potuto, ho fatto il 125, quindi la patente della moto è divisa in varie fasce, c'è il motorino cinquantino a 14 anni, a 16 se uno vuole può guidare il 125, può fare la patente, a 18 si fa la patente della macchina, a 21 la A2, quindi quasi quella definitiva, puoi guidare fino ai 300, 400, dipende dai kilowatt, e poi c'è la definitiva, quindi la patente A, a 24 anni, mi sembra, tant'è che a 16 ho preso la mia prima vera moto, tra virgolette, ed era una Yamaha YZF R125, quindi una super sportiva. E da lì mi sono innamorato, è stato veramente un amore a prima vista, avevo preso una del cinquantesimo anniversario Yamaha e mi sono veramente divertito tanto, con anche il mio migliore amico, che lui, invece nuotatore, anche lui, andavamo a nuoto con la moto, lui arrivava da Mantua, ma aveva sempre una Yamaha, ma il VR 125, quindi due moto completamente diverse, ma si hanno divertiti tantissimo. L'ho usata veramente tanto, ma non troppo. Unica cosa, io comunque già ero alto, già comunque il mio peso ce l'ho, perché tra il nuoto, la palestra e tutto, quindi iniziava a pesarmi un po' il fatto che era piccolina per me, un po' leggerina, e tanto scomoda, perché con le super sportive sei tanto col peso in avanti, e quindi sei con i polsi che ti fanno male, i lombari che ti fanno male. E quindi cosa ho fatto? A 18 anni ho detto, vendo la moto, a super malincuore, tant'è che è il periodo di cui vi parlo sempre, se seguite i miei video di crescita interiore, in cui spiego la mia storia. Quando ho avuto quel cambiamento a 18-19 anni, in cui di colpo è cambiato tutto, è anche il momento in cui dico sempre che ho venduto la mia moto, a cui tenevo tantissimo, per comprarmi e anche per aiutare, insomma, l'acquisto della macchina. E in quel momento lì è iniziata poi, dopo un po', dopo quel periodo di cambiamento, tutta la mia, l'iniziazione nella crescita, ecco, quindi prima esteriore, tutta la carriera nella moda, i social, e poi interiore. Quindi diciamo che avevo iniziato a viaggiare, avevo iniziato a fare concorsi, avevo iniziato a muovermi anche all'estero, e quindi la mia idea di minimalismo, la mia idea di non voler possedere niente, diciamo che ha lasciato stare la moto per un po', non avevo intenzione di prendere la patente. Arrivato ai 21 anni, mi sono detto, cosa faccio, cosa non faccio, la faccio, non la faccio, però è un po' una cavolata fare una via di mezzo, sai cosa, aspetto, e a 24 anni ci penso, e vediamo come sono messo. Sono arrivati i 24 anni, e la moto era proprio l'ultimo pensiero, anzi era, mi sa che a 24 anni era tre anni fa, quindi eravamo praticamente verso pandemia, fine pandemia, quindi diciamo che non era proprio nei miei pensieri, e tant'è che volevo anche trasferirmi e tutto. Alla fine dei conti ho aspettato, ho aspettato, poi sono arrivate tutte le altre cose, ho iniziato il percorso di crescita interiore, tante tante cose. Il succo qual è? Il succo che ha 27 anni, compiuti adesso, ho deciso di fare la patente, mi sono iscritto a inizio estate, e l'ho finita un mese fa, quindi siamo adesso a ottobre, finita a settembre, metà settembre. Ho iniziato a cercare moto in giro per tutta l'estate, e ho detto, sai cosa, se trovo qualcosa proprio così, che costa anche poco, non mi interessa avere la moto definitiva, anzi, mi interessa avere un qualcosa da guidare, perché appena mi sono iscritto a fare la patente, subito rimettermi in moto a una moto, e per la patente avevo una Kawasaki R6N, e mi è piaciuto tantissimo, mi sono divertito, poi prima volta che guido un 600, ed ero super entusiasta, quindi ho detto, voglio almeno una mia moto. Mi sono messo un budget basso, e ho detto, proviamo, vediamo se trovo qualcosa bene, se no niente. Poi durante l'estate, il lavoro, varie cose, eccetera, alla fine ci ho rinunciato, è finita l'estate, che non avevo trovato niente, dovevo spendere veramente troppi soldi per avere qualcosa che mi piacesse, e quindi ho lasciato stare. Arriva l'esame, settembre, faccio la patente, e dico, ma sai cosa, cerchiamo ancora un po', e cercavo, e cercavo, e cercavo finché ho trovato questa moto, che è quella che ho comprato. Perché questa moto? Ho preso una Honda VFR 800 Fi, una moto del 2000, quindi di 24 anni fa. Perché? Allora, uno, perché di miei mezzi di trasporto in realtà non ho niente, nel senso che avevo una macchina, non ce l'ho più, era tra l'altro in prestito ai miei genitori, io sono ancora qua in questo momento con loro, perché continuo a fare viaggi qua e là, quindi al momento è un po' la mia base ferma, qui ho la mia routine, le mie cose, i miei spazi, ma comunque diciamo che ci convivo tranquillamente, poi in futuro sicuramente qualche parte me ne andrò, già da febbraio proverò ad andare a Tokyo. Anche quello era il motivo, eh ma se già poi vado in Giappone, eccetera, cosa faccio, cosa non faccio. Poi mi sono detto, sai cosa, cerchiamo, se trovo qualcosa poco bene, se no niente. E vedendo varie recensioni, varie cose e tutto, ho trovato varie moto che mi piacevano. L'idea era di prendere una moto sportiva, ma non volevo una super sportiva come la Yamaha che avevo 16 anni. Perché? Perché è troppo scomoda per me. Volevo qualcosa che fosse un po' più da touring, un po' più comodo, ma una via di mezzo, qualcosa che mi piacesse. C'erano dei BMW, cose varie, c'erano dei custom, però se volevo un custom che mi piacesse, tipo un Harley, avrei dovuto spendere più del previsto. Se volevo una Naked, non mi piacciono tanto le Naked perché sono un po' leggerine per me. Anche ad esempio il Cafe Race mi piace molto. Ho provato a vedere veramente tutti i tipi di moto, tra l'altro anche qualcosa avrei dovuto trovare che fosse vicino almeno abbastanza alla casa mia, massimo un'ora e mezza di strada con la macchina da andare a vedere. E alla fine, optando per varie cose, guardando varie recensioni, ho trovato che c'è proprio una fanbase di questa Honda VFR 800. E non tutte le Honda VFR 800, ma questa qua specifica, dagli anni 98 all'anno 2001. È una moto che, da quanto ho capito, è super apprezzata dagli esperti, dagli appassionati. È qualcosa che la gente, diciamo, che ne sa, da quanto ho capito, ne va proprio matta perché ha un tipo di motore a cascata di ingranaggi, qualcosa del genere, che dicono che sia molto classico, che sia molto affidabile, che non si rompe quasi mai, che non dia problemi, che la moto di per sé è costruita con un equilibrio perfetto, che è una... Tante gente, su Reddit ad esempio, ho visto che dicevano che questo tipo di moto è una delle ultime moto che hanno fatto veramente con carattere. Altri che dicono che vederla è un po' come vedere un quadro di arte classica, che il rumore è molto bello, che lo stesso motore di quella moto è lo stesso con cui gareggiava una moto che costava un sacco di soldi per il moto mondiale per la Honda durante quegli anni. Quindi che in realtà la moto a parità di prezzi e inflazione, sui 16.000 euro nuova all'epoca, facendo il paragone di quanto costerebbe adesso la vita e quanto costava tempo fa, mentre una moto da 35, 40, 50.000 euro per quella del moto mondiale avevano lo stesso motore. Poi non c'era ancora l'ABS per la frenata, ma aveva un sistema di frenaggio dual CBS, quindi che frena davanti ma frena anche un po' dietro. Quindi tutte le persone con cui ho parlato, che ho avuto mentre cercavo le moto, mentre sono andato a vederle, meccanici, persone appassionate, mi hanno tutti consigliato. Mi hanno detto, ah sì, il VFR, beh, questa è una vera e che è una moto affidabile. E poi mi hanno anche detto, Honda, Honda è anche un bellissimo marchio. E quindi ho detto, boh, tutti ne parlano, andiamo a vederla. Sono andato a vederne un paio e vi dico la verità, la prima volta che l'ho vista, l'ho vista in un concessionario a Bergamo, diciamo che un po' un cassone, nel senso che l'ho vista ed era veramente tenuta male, con i pezzi non originali, un po' distrutta e non mi è piaciuta tanto. Cioè mi è piaciuta, però diciamo che mi aspettavo qualcosa di meglio. Poi sono andato a dare un'altra possibilità, sono andato a vederla da questo signore di Padova, che la teneva veramente maniacalmente. L'ho vista quasi perfetta per avere 24 anni ed è bellissima. Era con tutti i pezzi originali, tranne la marmitta, che ci ha messo una marmitta modificata perché la sua era arrugginita. E quando l'ho vista ho detto, mamma mia, innanzitutto dal vivo è molto più grossa di quanto sembra. Ha un rumore bellissimo, tra l'altro con questa marmitta Gianelli, mi sembra. È un rumore pazzesco, ma non troppo forte da non disturbare gli altri, ed è una sport touring, quindi è perfetto, perché è esattamente quello che cercavo, che è sportiva, bella, ma anche diciamo abbastanza comoda. Tra l'altro ci sono anche un paio di cose che alla fine vi dirò cosa voglio fare per renderla ancora più comoda. E quindi in tutto ciò, alla fine la vedevo, mi è piaciuta, era tenuta bene, il prezzo era leggermente di più di quanto avessi voluto spendere, però mi sono detto, sai cosa, alla fine, io non mi compro mai niente, e proviamo a vedere quanto costerebbe in totale. Mi sono fatto i miei conti e ho visto, sai cosa, alla fine è vero, c'è il prezzo dell'assicurazione, c'è il prezzo del bollo, c'è il prezzo del passaggio di proprietà, che sono spese, ma in realtà oltre a quello, il prezzo della moto, a meno che non la distruggi, la moto di per sé ha un valore che rimane più o meno quello, una moto di 24 anni fa rimane più o meno quello, quindi ci ho speso tot, quando la venderò tra 2, 3, 4 anni, 5 anni, se vorrò venderla, probabilmente quei soldi mi ritornano, nel senso sono lì. Anzi, essendo una moto di 24 anni fa, può anche essere che guadagni un po' di valore. E l'ho scelta, perché? Uno, perché era tenuto bene, due, perché era sport touring, tre, perché è storica, quindi è già una moto iscritta all'ASI storica. Ed è la cosa che, diciamo, mi faceva più comodo. Perché? Perché ha agevolazioni sul poter andare in giro, ha agevolazioni sul bollo, pago il 70% o meno del bollo, ho agevolazioni sull'assicurazione, cosa che io, essendo giovane, e questo è il mio primo veicolo veramente intestato a me, e ho preso sì il merito, diciamo, com'è che si chiama, la classe di merito dei miei genitori, abitando ancora nello stesso nucleo familiare, quindi anche quella era una cosa positiva, e approfittandone, è vero, invece che, non so, cioè che intestandola a me, quindi ho preso la classe di merito e ne ho approfittato perché ne spendevo la metà, grazie a questa cosa dello storico. Se no, e quindi tutte le assicurazioni che prenderò poi in futuro, le assicurazioni hanno 14 livelli, invece che partire dal livello 14, dal 14esimo livello, parto dal primo livello, quindi tutte le assicurazioni che farò in futuro, diciamo che saranno agevolate, mi costeranno meno. Quindi è vero, magari questo primo veicolo mi costa di più, però prendo la classe di merito il primo, per tutto il futuro, e in più ne approfitto perché essendo storica la moto, pago già molto meno, quindi questa partenza, diciamo, agevolata mi costa anche meno, quindi ne ho approfittato anche per questo motivo qua. E poi ragazzi, perché? Perché diciamo che il design mi piace tantissimo, è un design un po' iconico, classico, bello, sportivo, con questo rosso, che è proprio il colore di quella moto lì, ed è, diciamo, quel qualcosa che guardi e non è tipo super aggressivo, che dici wow, ma non è neanche super classico da dire un Harley, eccetera, è quel design un po' anni 2000, anni 90, anni 2000, giapponese, retro, che a me è un'estetica che a me piace tantissimo. Quindi diciamo che me la sono sentita molto mia, come moto, e l'ho comprata, e ho detto basta, la provo. Un altro paio di motivi per cui ho preso e ho scelto proprio questa, era perché, vabbè, c'erano anche altre moto ovviamente che mi piacevano, ma andavano a costare un po' troppo, quindi per il budget che avevo questa era perfetta, era quello che volevo. E inoltre dopo un po' mi sono innamorato anche proprio dell'estetica, e come vi dicevo, le recensioni, tutte iper positive. Ogni volta che ho guardato c'era gente che diceva che ha provato tantissime moto, ma questa è tipo una all-rounder, quindi che va bene un po' per tutte le occasioni, che è sempre piaciuta tanto. E che c'è gente che l'ha addirittura avuta in passato, era il sogno di quando era bambino, perché la vedevano nelle riviste, eccetera, un po' questo stile retro giapponese. E poi adesso che invece è più affordable, è più facile da comprare, se la sono comprata, è gente che ne ha avuta una, due, tre, e uno che dice che l'ha venduta e se l'ha ricomprata perché gli mancava troppo. Quindi veramente tante, tante cose. Dicono addirittura alcuni esperti che sia una delle moto meglio costruite a livello di bilanciamento, affidabilità, motore e tutto, nella storia. Quindi diciamo che cercavo un po' qualcosa di, sì, storico, comunque eccetera, ma anche abbastanza iconico, qualcosa che si vede, se poi il colore è rosso, così, quindi abbastanza, diciamo, riconoscibile, qualcosa che fosse basic, non troppo eccessivo, ma allo stesso tempo con carattere. Quindi è un po' quello che cercavo. L'unica cosa è un po', ovviamente, che io essendo alto, comunque dopo un po' che lo utilizzo, dopo 45 minuti, un'ora, i polsi iniziano a farmi un po' male, ma ci sono dei kit che alzano un po' il manubrio, eccetera, e probabilmente iniziano, ci penso, volentieri, anche il cupolino lo alzano un po' per dare un po' meno aria. Non voglio fare troppe modifiche, voglio tenerla abbastanza originale, però probabilmente un paio di accessori per rendere il manubrio un po' più alto, un po' più comodo, quelli li metterò. Ah, e perché non la versione successiva? Mi dicevano anche, guarda che c'è anche la versione 2002 in poi, quindi non la quinta generazione, quella che è piaciuta a me, ma quella successiva, che poteva anche essere quella in realtà storica, essendo oltre i vent'anni, ma in realtà mi hanno detto che non solo quella lì era la quinta generazione, quella diciamo più apprezzata, ma anche le generazioni successive diciamo hanno cambiato alcune cose che non è il massimo, mettendo questo motore V-Tech che ad alcuni piace, ma in tanti si lamentano, dicono che consuma tanto, dicono che dà problemi, quindi ha perso un po' quell'affidabilità leggendaria che ha avuto questa moto, quindi diciamo è diventata un po' una bella moto, ma non è la stessa del anni 2000, quel modello lì a quinta generazione, quindi bella, ma non è quello che volevo. A ritorno, diciamo che portandola a casa, sono andato in autostrada lentamente, ovviamente vado piano, sono andato lì in autostrada, ho provato due o tre volte a accedere un po', e diciamo che si sente, è un 800 ed è 100 qualcosa a cavalli, quindi è una bella moto, spinge tantissimo, e ovviamente bisogna stare un po' attenti. Quindi ho deciso di comprarla, non so quanto la userò, la userò un po', la userò un po' qua, un po' là, ho deciso di farci un po' di modifiche, quindi ci sono ancora due o tre adesivi che voglio togliere, altri che voglio mettere, cose molto leggere, molto semplici, forse in futuro metterò un kit per il manubrio un po' più alto, per farla un po' più comoda, anche con il cupolino messo a posto, la stiamo sistemando, i graffietti, tutte le varie cose, sono comprato il portachiavi giusto, perché non ho il portachiavi, due o tre piccole cose, anche per personalizzarla per me, ecco, quindi diciamo che lui me l'ha venduta con tutto originale, tranne la marmitta, ma con un qualcosina in più è riuscito anche a reperirmi la marmitta nuova da mettere lì, che non si sa mai che in caso, in futuro, per una revisione o altro, se per la questione storica, almeno posso rimettere anche quello come pezzo originale, ed è tutta originale. E quindi ecco qua ragazzi, ovviamente neanche da dirlo, vado, io non sono uno che corre, lo vedete, sono una persona calma, tranquilla, con la testa sulle spalle, ovviamente la moto è pericolosa, non c'è niente da fare, ne sono consapevole, ed è per quello che cerco di guidare con attenzione, già con la macchina faccio molta attenzione, adesso guido da sempre, come vi ho detto da quando ho 14 anni, so benissimo che con la moto devo stare più attento, devo stare attento al tempo atmosferico, devo stare attento a cosa c'è per terra, molto più attento alle altre macchine in confronto che con la macchina, stare distante da tutti, non è tanto comoda perché comunque non è che puoi portarti troppe robe dietro, ti prendi la pioggia, diciamo che la moto non è una cosa comoda, è uno sfizio, costa ed è ovviamente più pericolosa, però perché la gente allora la conta? Perché soprattutto se ci siete già andati in moto o ce l'avete, mi capirete benissimo, la sensazione che ti dà la moto quando guidi è di euforia, è di libertà pazzesca, quando ho fatto la mia prima accelerata per sorpassare un camion in autostrada e non c'era nessuno, neanche accorgendomene, ho accelerato e dai 110 sono passato ai 160 e poi di nuovo ai 120 ed è successo tutto in due secondi e quando ho finito sono scoppiato a ridere dentro il casco dicendo porca miseria e quindi come dice Sadguru 4 ruote per il comfort 2 ruote per l'amore per la vita quindi c'è veramente qualcosa di fantastico in tutto ciò mi raccomando guidate con prudenza ed ecco qui spero che fatemi sapere cosa ne pensate della moto se vi piace e noi ci vediamo in prossimo video ciao ragazzi